E' l'elettronica che entra sempre di più in classe? Sempre di più, giustamente, e anzi direi che oltre all'elettronica oggi occorre aggiungere l'informatica, che sono i due strumenti, le due modalità, i due settori, due comparti insomma, che sempre di più sono necessari per diagnosticare cosa ha la nostra auto. E poi ci sono queste collaborazioni, queste collaborazioni con i privati, in particolare oggi con TEXTA. Abbiamo sottoscritto questo accordo con una società leader a livello mondiale nell'autodiagnosi, perché riteniamo che sia necessario anche per noi acquisire competenze, essere supportati da soggetti qualificati, perché i nostri studenti, i nostri studenti in particolare del quarto anno, possono davvero diventare tecnici dei professionisti, oggi sempre di più necessari, nelle ufficine meccaniche del nostro territorio. Cosa prevede questo accordo per la scuola? Ma prevede intanto di essere stati beneficiati di alcune attrezzature con dei prezzi politici, ma soprattutto quello di consentire ai nostri formatori di avere un aggiornamento costante, ogni tre mesi devono fare due giorni presso la loro sede a Treviso. Evidentemente i nostri formatori aggiornati fanno ricadere poi sugli studenti naturalmente queste competenze e questi nuovi saperi. Abbiamo visto in queste ultime settimane quanto le emissioni delle automobili siano al centro del dibattito. Qui gli studenti hanno a che fare quotidianamente con questi argomenti? Sì certo, infatti diciamo a livello mondiale è un momento abbastanza importante il fattore e le emissioni. L'automobile si evolve e così anche l'importanza di mantenere questa automobile nella sua perfetta efficienza diventa un ruolo importante e chiave per il manutentore, cioè colui, l'officina o il tecnico dell'officina che deve controllare queste emissioni, deve controllare il perfetto funzionamento del veicolo. Quindi la scuola, ecco qui l'investimento, nei nuovi futuri mecatronici che dovranno fare questo tipo di attività, cioè mantenere lo stato di efficienza del veicolo così come la casa costruttrice ha fornito all'utente quando era nuova. Il mecatronico è una figura altamente specializzata, è un po' come un chirurgo delle automobili. Sì, diciamo che si può paragonare, effettivamente è talmente complicata oggi la parte elettronica proprio per aumentare la sicurezza del veicolo e per i conducenti naturalmente che sono all'interno ma anche per poter contenere le emissioni nocive allo scarico, ha fatto sì che questa elettronica reti CAN, sistemi diciamo complessi di informatizzazione, ha determinato un aumento della professionalità di chi dovrà fare la diagnosi, di chi dovrà fare la manutenzione di questi veicoli. Quindi ecco che la scuola, dobbiamo partire dalla scuola e da partire proprio da questo centro per poter avere domani questa figura diciamo meccatronica che lega la parte meccanica di un altro veicolo alla parte elettronica e informatica di un sistema. Sono meravigliato davanti a queste nuove macchine meccaniche che quando ho iniziato io i corsi di formazione professionale nel lontano 1951, prima al patronato di Bergamo e dieci anni dopo quando sono venuto a Clusone il nostro specifico era quello della formazione professionale e le cose si sono evolute e come cambia il mondo allora non si era ancora andati nella luna e adesso vedi parlano del pianeta Marte. Come le cose si evolvono vero in tutti i campi così anche qui abbiamo la possibilità di vedere queste due macchine che verranno vero utilizzate o perlomeno impareranno a usarle i meccanici. E la benedizione di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La benedizione è avvenuta, resto poco a noi a realizzarla.